Due tabaccai sono stati verbalizzati dalla Guardia di Finanza di Terli perché sorpresi a vendere sigarette a dei minori. Sono questi i primi esiti di un'intensificazione dell'azione di prevenzione e controllo disposta dal Comando regionale dell'Umbria nel chiaro intento di tutelare le fasce deboli e in particolare i minori. I finanzieri in borghese hanno controllato le tabaccherie vicine alle scuole. Le pattuglie hanno notato alcuni ragazzi che entravano all'interno delle tabaccherie per acquistare un pacchetto. Fermati a pochi passi dai negozi si è avuta la conferma della loro minorità. Una disattenzione che è costata cara ai negozianti. La sanzione prevista va dai 500 ai 3.000 euro più la sospensione della licenza per 15 giorni.